Tommaso Pertici per ForzaSanJow.it, giovanissimo, classe 2005 L'obiettivo di quest'anno è sicuramente fare bene e quindi fare il maggior numero sia di assist che magari di gol Certo, senti sei arrivato da poche settimane, provieni dalla Pistoiese In tutto quel caos creatosi attorno alla società nella quale giocavi Però alla fine un vantaggio lo hai tratto, quello di essere in pianta stabile con merito nella seconda parte della scorsa stagione Sì, diciamo che gli avvenimenti di Pistoia hanno fatto sì che comunque potessi giocare da gennaio in prima squadra Quindi diciamo che nella sfortuna c'è stata la mia fortuna Il campionato è la Serie D, perché insomma, Dall'Unioris è stato catapultato appunto una prima squadra È un campionato sicuramente bello, molto stimolante, molto fisico In confronto all'Unioris ovviamente non c'è paragone Però penso che con la giusta testa possa riuscire a fare bene Le tue caratteristiche principali, sei un esterno destro? Sì Sono un esterno destro Fai tutta la fascia, non lo so, ecco, descriviti un po' Sì, sono un esterno destro, soprattutto di spinta Infatti il 3-5-2 è proprio il modo dove mi trovo più a mio agio La forza è proprio il mio punto di riferimento Quindi punto sempre su quella Senti, ti sei allontanato un po' da casa Però insomma, questo potrebbe essere il tuo trampolino di lancio Non sei lontanissimo naturalmente, però insomma, nemmeno dietro l'angolo come lo eri l'anno scorso Sì, non sono troppo vicino, però secondo me ne è valsa la pena La San Giovannese comunque è una bella piazza, con una bella storia Comunque è una squadra che gioca a calcio, quindi secondo me ne è valsa la pena Senti, qual è stata la molla che ti ha spento ad accettare San Giovanni? Anche perché so che anche la Pistoiese stessa un pensierino a te l'aveva fatto Sì, diciamo che ho scelto la San Giovannese per vari fattori Uno sicuramente è la storia che c'è dietro, quindi è una bella società con tanti tifosi Che la domenica sicuramente ti invogliano a fare meglio Quindi ha una bella visibilità Poi il modo di giocare della San Giovannese mi rispecchiava con un 3-5-2 il mio modulo Quindi diciamo che sono stati un po' questi i fattori che mi hanno fatto scegliere la San Giovannese Girone Tosto, ora tu sei praticamente nuovo della categoria perché ne hai fatte pochissime di presenze Però tra di voi cosa dite di questo Girone? È un Girone complicato Sì Che diciamo, secondo me è molto equilibrato Quindi ovviamente c'è le favorite però secondo me non riusciamo a dare un pronostico troppo anticipato Grazie a Tommaso Pettici Grazie a Tommaso Pettici